di cose che bisogna fare un po' e un po', no? Ma, a parte che lei, io pensavo che ci fosse nel Dream Team di Draghi, sono rimasta delusa, lei è rimasto deluso? No, no, lo sapevo perché i segretari non sono segretari di partito, non è entrato nessuno, ci mancherebbe, faceva entrare quello con meno parlamentari. Noi siamo nati dopo le elezioni, quindi abbiamo un gruppo molto piccolo, era scontato per me. No problem. Ma quanto è Dream Team però questo governo? Allora, perché, insomma... Allora, questo governo ha una componente di tecnici che saranno quelli che scriveranno il recovery plan, secondo me di primissimo ordine. E i politici sono la fotografia dei gruppi parlamentari. Io ho risposto a chi si lamentava della qualità dei politici presenti, ma non ce li ha messi Draghi, ce li abbiamo messi noi. Nel senso che quelli stanno in Parlamento in rappresentanza di partiti che abbiamo votato noi. E se vogliamo migliorare la parte politica della componente di ciascun governo, bisogna votare persone che poi ci piacciono. C'è la camera, Mario Draghi?